ciao a tutte sono simona ho 32 anni e sono una mamma di due piccoli bimbi un bimbo di tre anni e mezzo una bimba di 15 mesi ho intrapreso un percorso con gabriella a maggio di quest'anno in un momento difficile ma in un momento che mi ha permesso di capire che avevo bisogno di tempo da dedicare a me stessa sia dal punto di vista dell'alimentazione sia dal punto di vista fisico quindi proprio di esercizio fisico e avevo anche bisogno di un percorso personalizzato che tenesse conto delle mie abitudini alimentari delle mie esigenze e anche del fatto che comunque lavoro e il mio tempo libero è dedicato ai bimbi o alla casa non avendo nonni vicino e diciamo che gabriella ha cucito su di me un piano un programma sia alimentare che di allenamento che mi permettesse di portare avanti questo obiettivo con pasti comunque salutare e comunque veloci da preparare e con allenamenti mirati e che potessi fare in qualsiasi momento della giornata infatti io li facevo alla sera quando mettevo nanna ai bimbi e quindi li ho fatti tutti a casa questo anche un altro aspetto importante che avevo bisogno di farlo non in palestra non in altri luoghi ma proprio a casa sicuramente mi ha supportato anche la famiglia mi hanno comunque sostenuto in questo percorso che da maggio ad oggi mi ha trasformato fisicamente ma anche dal punto di vista dell'alimentazione perché ho perso 16 kg e sono tantissimi devo dire li ho persi con impegno e dedizione quindi è stato faticoso ma veramente soddisfacente e vedevo i miei progressi piano piano all'inizio magari non sembrava ma c'erano e mi faceva notare Gabriella dopodiché si vedevano proprio bene e la cosa positiva di tutto questo programma per me è stata che ho capito l'importanza dell'alimentazione che per me è sempre stata sregolata e ricca di pasti un po poco salutari partendo dalla colazione e poi arrivando a cena e mi ha fatto capire che sto meglio mi sento meglio mangiando bene mangiando cose salutari quindi sto proprio bene ho più energia anche durante il giorno e che lo sport cioè l'allenamento che faccio mi aiuta anche a scaricare lo stress quindi nonostante arrivo stanchissima sera riesco a fare la mia seduta di allenamento proprio perché è una forma di liberazione dallo stress quindi che dire io mi sono trovata veramente molto bene e sono stata comunque supportata sempre comunque anche nei momenti più difficili perché ci sono stati dei momenti in cui ho avuto un po più di difficoltà ma mi ha sempre motivata mi ha supportato e abbiamo sempre trovato la chiave di svolta per per proseguire e arrivare al mio obiettivo che ho raggiunto e che poi ho ulteriormente modificato perché ho visto che potevo farcela quindi vi consiglio comunque di provare e se vi parte il click per il cambiamento prendetelo e non perdete l'occasione secondo me lei può essere un'ottima guida per questo percorso di cambiamento che uno vuole fare